Francesco Graziani, ex giocatore e telecronista, è intervenuto recentemente nel corso della trasmissione Bordocampo, I Tempo, in onda su Radio Capri, della corsa allo scudetto stagionale. Nella sua analisi, Graziani ha sottolineato che il Napoli potrebbe diventare un grosso ostacolo per l'Inter nella corsa allo scudetto. Ha chiarito che, nonostante l'Inter sia tra le favorite, il Napoli non è da sottovalutare, perché potrebbe rendere molto difficile il cammino dei nerazzurri verso il titolo. Graziani ha commentato che, anche se il Napoli dovrà affrontare alcune sfide durante la stagione, vede ancora la squadra di Luciano Spalletti come una forza davanti a grandi club come Juventus e Milan. Uno dei motivi che ha sottolineato è il fatto che il Napoli ha fatto una campagna a trasferimenti molto efficiente, assicurandosi rinforzi importanti che si adattano perfettamente alla visione e allo stile di gioco del suo allenatore. Questo, secondo lui, è uno dei fattori che potrebbero rendere il Napoli una minaccia costante per gli avversari. Inoltre il telecronista ha fatto un'interessante osservazione sul grande vantaggio che il Napoli avrà rispetto squadre come Inter, Milan e Juventus, il fatto che non parteciperanno alle competizioni internazionali in questa stagione. Graziani ha spiegato che, non dovendo disputare le coppe europee, il Napoli può concentrarsi interamente sulla Serie A, il che rappresenta un enorme guadagno in termini di preparazione e riposo per i giocatori. Ha sottolineato che, senza la necessità di fare lunghe trasferte per le partite delle competizioni europee e senza lo stress di partite aggiuntive, la squadra può allenarsi durante tutta la settimana, prepararsi meglio per le partite e, quindi, evitare molti infortuni e complicazioni che di solito colpiscono le squadre competere in più competizioni contemporaneamente. Ha anche detto che il Napoli ha una rosa molto equilibrata, con giocatori che si distinguono per qualità e che sono stati ingaggiati con un progetto chiaro in mente. Questi giocatori sono stati fin qui fondamentali per la squadra e Graziani ha elogiato la capacità del mister di integrarli efficacemente nello schema tattico della squadra. Anche tu vedi il Napoli come una grande minaccia per l'Inter in questa stagione? Pensi che l'assenza di competizioni internazionali possa davvero essere un elemento di differenziazione per loro? Lascia la tua opinione nei commenti.